saggi del pallone geni del web scienziati del tubo catodico a tutti voi un caloroso benvenuto sul canale della chrysal fashion sport oggi 9 giugno del 2022 beh oggi è una giornata abbastanza uggiosa con pioggia e quindi come potete sentire dal dal video che oggi piove insomma e per tale motivo non è una giornata bella da trascorrere sicuramente al mare ma a casa proteggersi dalla pioggia comunque al coperto detto questo diciamo che piove anche su torino e sul mercato bianconero perché effettivamente la juventus sembrava e sembra lì lì che doveva prendere angel di maria con paul pogba ma oggi ne uno e nell'altro sono arrivati uno mai c'è totale raffreddamento tra le parti perché sono rimaste entrambi sulla stessa posizione il la juventus chiede o due anni di contratto oppure naturalmente una riduzione dell'ingaggio mentre di maria vuole un anno e con l'ingaggio da due quindi conseguenza credo che questo matrimonio difficilmente si farà e quindi di conseguenza la juventus si è un po guardata intorno per cercare di trovare una soluzione sul mercato visto che poi massimiliano allegri sembra intenzionato a giocare con 433 e questo lo dimostra anche perché in un articolo anche se non è stato poi così pubblicizzato come avviene quando si acquistano dei calciatori la juventus ha infoltito il il suo pacchetto staff tecnico aggiungendo un personaggio che oggi viene visto in sordina però sinceramente potrebbe cambiare un pochettino la vitalità ecco di questa squadra perché la juventus ha ingaggiato paolo bianco oggi a tutti potrebbe essere una persona sconosciuta una persona che dice ma questo chi cazzo è e invece paolo bianco è un allenatore che ha allenato ha collaborato in questi ultimi anni con dei zerbi e quindi in conseguenza ha allenato insieme a dei zerbi ha collaborato scusate insieme a dei zerbi sia al sassuolo e sia lo shak tardonesc e paolo bianco è stato preso per in particolare dovrà dedicarsi alla tattica e quindi fare in modo che paolo bianco dia una identità a questa squadra oltre al fatto che sicuramente si dedicherà un po' alla tattica in generale quindi anche nello studiare l'avversario capire insomma i suoi pregi i suoi difetti per poi naturalmente preparare la gara nei migliori modi possibili nell'affrontare quel tipo di avversario e quindi per tale motivo paolo bianco sicuramente è un elemento importante e questo sta a significare che qualcosa sta cambiando anche dal punto di vista tattico e dal punto di vista tecnico probabilmente hanno capito che c'era qualche limite su questo e quindi la juventus è intervenuto è intervenuto in particolare massimiliano allegri diciamo che lo ha avuto anche come suo calciatore quando allenava il Cagliari infatti ha smesso da poco e quindi per tale motivo un allenatore che è all'inizio della sua carriera e si parlava del fatto che lui potesse andare alla Carraresi ad allenare lui personalmente poi c'è stata la chiamata della juventus e quindi di conseguenza lui ha deciso di intraprendere la strada della juventus e quindi di non dedicarsi alla carriera carrarese e quindi per tale motivo avremo un nuovo tecnico insomma alla juventus sotto la guida di massimiliano allegri e questo sta a significare che la juve vuole giocare con questo 433 con questo modulo ma allo stesso tempo vuole dare appunto come dicevo un'identità a questa squadra un modo di giocare a questa squadra e queste secondo me sono le basi importanti per cambiare un modo di giocare sicuramente sotto sempre il controllo di massimiliano allegri il quale sicuramente si dedicherà un po' più alla direzione tecnica e poi ogni suo collaboratore su indicazione sua e lavorerà su quella su quella specifica e come naturalmente Landucci come naturalmente altri allenatori che o preparatori atletici preparatori atletici che fanno parte della squadra quindi qualche movimento dal punto di vista tattico c'è non c'è un nuovo allenatore ma qualcosa sta cambiando e quindi in conseguenza vuol dire che la juve si sta dedicando un po' di più a voler dare un'identità diversa a questa squadra e questo naturalmente bisogna dar merito e atto sia alla juventus che sta cambiando qualcosa e sia naturalmente bisogna dar merito a massimiliano allegri che nella sua intelligenza ha capito che c'era da aggiungere qualcosa e qualcosa è stato aggiunto quindi poi adesso quando inizierà la preparazione il 4 luglio per il campionato sicuramente credo che vedremo qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto finora forse non vedremo il calcio spumeggiante di Zeman o di De Zervi o di altri allenatori però probabilmente avremo un'organizzazione e qualche idea tattica in attacco che finora è mancata ritornando al discorso di Angel Di Maria e Pogba oggi naturalmente questi giocatori sono lì e non naturalmente naturalmente non hanno firmato per l'evento ora quali motivi ci siano per Pogba sinceramente non lo capiamo perché Pogba sembra da quello che scrivono i giornali abbia firmato abbia trovato anche l'accordo con la squadra bianconera però a oggi non ci sono lumi di che lui venga a Torino a fare le visite mediche e poi a firmare il contratto per quanto riguarda invece il sostituto di Angel Di Maria si parla di Berardi quindi la Juventus ha sondato un po' il terreno dopo Kostic abbia sondato il terreno su Berardi e quindi in conseguenza stiamo a vedere cosa succede però io sinceramente a volte non capisco la Juventus in particolare non capisco chi si sta occupando di mercato insomma dei collaboratori anche di Federico Carubini però io dico io credo che un giocatore che non dico che è uguale che però che ha un po' il sinonimo di un giocatore che sappia saltare uomo e sappia fare gol in Italia c'è gioca è giunto lì che non è uno stupido è uno che sicuramente sa lavorare bene sul mercato ha individuato in Delofeo un giocatore che può fare la differenza perché è uno che salta l'uomo sa naturalmente creare quella superiorità numerica e per tali è importante è importante perché può essere poi un giocatore determinante nel mettere sul piede dell'attaccante il pallone giusto da mettere solo in porta Berardi sinceramente io non lo vedo poi così importante e da Juendus personalmente penso più che altro che Delofeo potrebbe fare la differenza e quindi sinceramente ci penserei un po' prima di fare determinate scelte Kostic non lo conosco quindi in conseguenza non do giudizi Berardi lo conosciamo bene e Delofeo ieri me lo sono andato a vedere un po' le immagini e credo che non sia poi davvero così male e essendo che alla Juendus ne serve un attaccante che crei superiorità numerica io credo che Delofeo potrebbe essere il giocatore giusto fatemi sapere quello che pensate sia di Paolo Bianco che naturalmente della possibilità di provare a prendere Delofeo a tutti voi non posso che augurare un buon proseguimento di giornata e ci vediamo per un nuovo video buona giornata a tutti